Ciao a tutti, questo è il mio asse da stiro. È importante come prima regola avere un buon rapporto con il nostro ferro da stiro. Beh, io non ne ho tantissimo, è giusto avere anche un buon entusiasmo mentre si stirà la biancheria. E' importante controllare sempre le indicazioni riportate sull'etichetta degli indumenti. Quindi in questo caso sistemiamo il ferro da stiro a cotone e cominciamo a stirare. Come seconda regola è importante accertarsi che non ci siano macchie o aloni sugli indumenti, altrimenti il calore del ferro potrebbe fissarli sui tessuti. Terza regola, stira sempre dritto seguendo il senso della trama del tessuto per evitare che si formino false pieghe. Altra regola, camice e t-shirt con stampe e ricami si stirano sempre al rovescio. Non passate mai la piastra sui bottoni, perline e paillettes. Stendete sempre bene il bucato senza grinzie e brutte pieghe. In questo caso stirate più rapidamente e con meno fatica. Ultima regola, riponete gli indumenti in armadi e cassetti solo se già raffreddati, quando l'umidità si sarà completamente assorbita.